Parte domani il Palio dell'Alemanna, domenica 4 settembre alle ore 19.30 e una manifestazione importante per la quale lavoriamo da molto tempo. Il corteo avrà la sua partenza dall'area del Museo Archeologico di Gela che ricordiamo per quella giornata sarà aperto, l'area continuata con l'ingresso gratuito e proseguirà prima verso Piazza Sant'Agostino dove ci saranno alcuni allestimenti poi verso Piazza Umberto dove ci saranno diversi spettacoli. Sono diversi gruppi che partecipano a questa manifestazione sia locali che esterni sono diverse associazioni appartenenti alla Casa del Volontariato che sono gli organizzatori dell'evento e gruppi esterni come ad esempio il Cavalieri di Plutia di Piazza Ermerina, quindi i Cavalieri Normanni gli Arcieri di Enna assieme all'Opificio Medievale di Enna i Tamburi di Buccheri, i Raccorti Giganti di Comitini, il Gruppo Forcolistico di Niscemi e così via. Quindi una grande partecipazione anche dei comuni limitrofi che andranno ad arricchire la serata. Io invito la cittadinanza a partecipare, sono un evento unico e straordinario dedicato alla nostra patrona e dedicato a quello che è il fondatore della città medievale Federico II. La Casa del Volontariato che è tra gli organizzatori sicuramente è un valore aggiunto per la nostra comunità. Tutte le associazioni di protezione civile che operiamo all'interno della Casa del Volontariato stiamo collaborando affinché la popolazione possa assistere a questa grande manifestazione in totale sicurezza. Quindi per noi è sicuramente una grande occasione per testare le nostre capacità e per dare una mano alla collettività. Uniti si vince!